eccoci qui eccoci qui di nuovo ciao alessandra siamo di nuovo qui perché come di consueto adesso screpitisi ha preso questa abitudine dopo ogni diretta di telescrap andiamo a riproporre in maniera più tranquilla il progetto che abbiamo appena fatto vedere no sì assolutamente sì quindi oggi che riproponiamo la diretta delle 5 luglio bene allora in questa diretta oggi che cosa abbiamo utilizzato allora abbiamo utilizzato intanto abbiamo creato questo quaderno quindi oggi qui in questo video di youtube andiamo a riproporre questo quaderno ale allora mentre io mi preparo dice appunto quello che abbiamo preparato allora maria ha preso un foglio d'acquerello eccolo qui l'ha cordonato al centro e sta iniziando a giocare con i suoi acquerelli il foglio di acquerello era un foglio d'acquerello 30 per 30 e di aluacid se non erro e io l'ho ritagliato di una misura giusta poi per fare un quadernino che può essere anche proprio un quaderno di appunti l'abbiamo pensato un po un quaderno di appunti di vacanze no di questa estate il foglio che ho tagliato inizialmente è da 20 per no scusate 18 per 21 l'ho cordonato al centro a 10 e mezzo quindi adesso che sto facendo adesso alle sto andando a bagnare con acqua pulita tutta la parte superiore del mio cartoncino eccolo qua vedremo come prenderà forma l'abbiamo già visto oggi nella telescrap è una meraviglia ma lo vedete anche lì all'angoletto eccolo qua e poi vado direttamente a faccio un po scendere proprio il colore cioè scusa l'acqua in questo modo qua e poi vado a preparare un po di colore io già mi ero preparata un po di questo verde questa bellissima tavolozza di aluacid sta utilizzando mari gli acquerelli di aluacid io vado proprio a colorare vado proprio a mettere il colore nella parte superiore del cartoncino così in modo tale che quando noi andiamo a mettere il colore sulla superficie bagnata in acquarello che cosa succede succede che il colore va sembra proprio molto morbido perché si diciamo si ramifica ecco qua ma incantata a vedere quella meraviglia della trasformazione scendiamo troppo perché adesso andiamo proprio a riempire di colore prendiamo anche questo che ci piace molto quindi andiamo ad appoggiare il colore poi dopo vedi che faccio con questo colore qua questa è una bella idea mentre facevo oggi la telescrap mentre tu parlavi io lavorava una bella idea secondo me da da prendere considerazione laddove vogliamo fare un regalo a qualche amica perché abbastanza veloce come come esecuzione prendiamo del colore poi un po di fucsia un po di fucsia non guasta mai lo poggiamo qua e la in questo modo che poi possiamo fare veramente usare tutti i colori che vogliamo che non so se so che lo devo dedicare a una mia amica chiama di più un colore piuttosto che un altro ecco che do spazio certo priorità priorità un altro colore no poi a me piace quindi adesso io metterò anche il giallo ale comunque c'è il giallo ce la metto tanto sta bene ecco qua così appoggiamo proprio il colore questo modo poi lo facciamo andare alzo e lo faccio proprio calare in questo modo di proprio con questo effetto naturale lo facciamo proprio scendere il colore non so se si vede dal video io adesso lo devo tenere così in verticale in modo tale che scenda mentre lo abbiamo l'ho messo in piedi vado ad aiutare proprio la discesa magari col pennello in questo modo qua proprio con dell'acqua c'è lo aiuti proprio in questo modo naturale ci butto proprio dell'acqua sopra vedi Ale che trasformazione avete visto ragazze da un foglio bianco possiamo crearci tutte le pattern che vogliamo in realtà così è proprio una meraviglia in questo modo scendiamo 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 ora lo facciamo un po asciugare bene ora che si è asciugato un pochino andiamo a vado a fare quello che ho fatto prima cioè una bella timbrata sul lato sinistro così aperto e perché questa poi diventerà la prima di copertina no quindi faremo così e siccome poi andiamo a colorare con sempre gli acquarelli andiamo a fare una bella timbrata utilizzando un inchiostro indelebile quindi mi preparo qua con la mia stampisi perché c'è un inchiostro specifico c'è un inchiostro specifico per la per quando noi andiamo a colorare per ogni cosa però quando andiamo a colorare si con gli acquarelli è sempre meglio utilizzare degli inchiostri indelebili quindi posiziono qui intanto il mio timbro mettiamo lei proprio così in questa posizione ecco qua così perfetto catturiamo il timbro e prendiamo lo stazon che è un inchiostro indelebile all'asciugatura rapidissima che ci permette di timbrare tutto ciò che poi dobbiamo colorare magari con materiali all'acqua quindi non solo quegli acquarelli ma tutto ciò che inchiostro che acquano quindi anche di stress e compagnia bella timbriamo bene cerchiamo di far aderire su tutta la superficie perfetto il timbro è fatto e adesso possiamo andare anche a colorarlo sempre con gli acquarelli Ale ecco qua allora Ale lo coloriamo aspettiamo solo qualche istante affinché lei si l'inchiostro si asciughi inizio da dal viso quindi prendo un color tipo un color carne quello che è il mio consiglio come sempre di tenervi un pezzetto di cartone di cartoncino d'acquerello neutro in modo tale che possiamo vedere qual è l'intensità del colore che stiamo arrivando ad utilizzare e iniziamo a colorare dalla parte più scura quindi quella più in ombra secondo la nostra esigenza scarico il pennello su uno scottex e poi sciolgo il colore e me lo porto verso il basso vedi che in pochissimi trassi abbiamo già abbiamo già diciamo i volumi no coloriamo le manine le gambine sto tocco delicato si proprio poco poco basta poco soprattutto quando lavoriamo con dei timbri così così piccoli ma poi basta veramente pochissimo poi lavoriamo sui sul vestito facciamo questo bel fucsia quello che è il mio consiglio è sempre lavorare quando lavoriamo in acquerello a distanza dall'oggetto appena colorato ma qua ci sono le gambe ma riusciamo tranquillamente a non mescolare i colori parto qua che è la parte più in ombra diciamo proprio per creare volume scarico il pennello e sciolgo verso la parte più bassa un colore comunque ce n'è e per cui mi va a colorare tutta questa superficie poi andiamo a colorare i capelli prendiamo un marroncino questo qua potrebbe andare bene si andiamo dalla parte centrale e ce lo spostiamo verso l'esterno in questo modo anche qui sciogliamo subito il colore e lo portiamo verso la parte esterna il bello dell'acquarello che non dobbiamo andare a colorare perfettamente proprio lasciare proprio il senso del passaggio del pennello lasciamo agire si andiamo verso su in questo modo poi aspettiamo qualche istante che il colore si stabilizzi un pochino colleremo il collo che l'avevo lasciato fuori e con un colore magari un marrone un po' più scuro così andiamo a definire qualche piccolo particolare quindi passiamo magari un po' aspetta che non riesco a prendere il colore più scuro eccolo qua a prendere un po' di ombre qua nella parte dell'attaccatura e poi anche qua dietro in questo modo qua sciogliamo sempre il colore con l'acquarello non dobbiamo avere paura perché quando lavoriamo abbastanza velocemente tutto quello che facciamo poi diventa un arricchimento per l'immagine coloriamo anche il nostro palloncino ci spostiamo siamo ben lontani dalla andiamo a colorarlo proprio così liberamente lasciando visto che è un palloncino di plastica andiamo a lasciare diciamo una parte così vuota di colore andiamo a intensificare solo alcune parti e lasciamo anche in questo caso asciugare un pochino prima di procedere mettiamo anche un po' di ombre qua sotto andiamo a mescolare un po' di colori in modo tale che ci sia un po' questo effetto dei colori che abbiamo usato ma che vada un po' a riassumere i colori quindi ne usiamo un paio mi allungo così qua più leggero e invece qua più pesante l'ombra perché lei si appoggia così abbiamo proprio il senso di leggerezza aspettiamo che si asciughi una volta che si è asciugato andiamo a intervenire su alcune parti tipo qua così abbiamo un po' questo effetto di gommina poi un'altra cosa che mi piace fare che abbiamo fatto anche lì andiamo a fare una bella timbrata quindi utilizziamo il timbro di Screpitisi estate di luglio ci riprendiamo la nostra stampisi eccola qua in questo modo qua ci posizioniamo e siccome avevamo già fatto la piega andiamo a vedere quali sono i punti di riferimento ci posizioniamo vicino alla alla piega non troppo vicino perché così non perdiamo i dettagli della nostra timbrata qua va bene ci piace vero Ale qua? si si dici che va bene si una volta mettiamo le calamitine vicine in modo tale da non far muovere ormai il segno questa volta Ale dici come non dobbiamo più colorare catturo prendo il memento quindi inchiostro ad asciugatura semi rapida però che possiamo utilizzare tranquillamente tanto ormai non andiamo a a colorare più quindi possiamo usare un inchiostro o meno forte ma di alta precisione eccolo qua eccolo lì che bello il timbro di luglio estate e a questo punto andiamo a dar vita al nostro quaderno che strumenti usiamo? questa è la nostra copertina questa poi avevo tagliato dei fogli di carta da stampante sempre poco meno di 18 quindi poco meno dell'altezza del nostro quaderno piegati in due quindi era un 21 quindi piegati a 10 e mezzo e li andiamo a posizionare qui al centro del nostro quaderno poi prendiamo questo attrezzo della Weissen che è una spillatrice mettiamo il nostro quaderno in questo modo ecco qua qua c'è una calamita mi posiziono così e qui non so se si vedono bene ci sono delle freccette vedete una, due e tre queste mi danno l'indicazione di dove andare a posizionarmi sopra la base magnetica andiamo ecco qua si ferma si è fermata posiziono vedete le due freccette sono in corrispondenza della linea di marcatura che abbiamo fatto poco fa posiziono bene in modo tale che sia tutto perfetto e vado a schiacciare forte questa rimane salda perché c'è la calamita ecco qua una ci posizioniamo un poco più giù la calamita mi aiuta tantissimo in questo caso perché l'ha già bloccato vedi Ale ci posizioniamo di nuovo un'altra bella schiacciatina il nostro caderno è fatto ecco qua allora alla prossima telescrappa al prossimo video alla prossima ispirazione ciao